40 milioni di euro di investimenti in più in un anno, che potranno diventare 130 nel caso di proroga per tutto il 2022. Il super ecobonus 110% porterà finalmente una boccata d'ossigeno per l'edilizia sarda. A dirlo il Centro Studi di CNA Sardegna, che ha presentato la stima del potenziale impatto sul territorio regionale della misura varata dal Governo Conte in materia di efficienza energetica emessa in sicurezza degli immobili. Nel 2019, in epoca pre-Covid, la spesa dei sardi per la riqualificazione residenziale è stata di circa 890 milioni e presumibilmente il 2020, ormai irreparabilmente danneggiato dalla crisi economica, si chiuderà senza effetti positivi. Gli effetti del super ecobonus, secondo CNA Sardegna, si vedranno nel 2021, che potrebbe chiudersi con investimenti in più per oltre 40 milioni di euro, il 4% in più rispetto alla chiusura 2019. E il dato potrebbe diventare ben più rilevante nel caso di estensione del bonus 110% fino al 2022. 130 milioni, il 15% in più, che si traduce in una spinta importante all'economia regionale. E per fornire assistenza a un'ampia platea di utenti, per utilizzare al meglio Superbonus, condomini, ma anche proprietari di case singole, CNA Costruzioni Sardegna, in collaborazione con la piattaforma digitale Harley e Dickinson e Eni Gas e Luce, lancia il progetto Riqualifichiamo l'Italia, che propone un servizio completo, chiave in mano, che consentirà ai beneficiari di godere delle agevolazioni fiscali e di un'assistenza completa per tutti i passaggi previsti dalla misura. Lunedì 27 settembre alle 17, il progetto verrà presentato in streaming. Tutte le informazioni sono sul sito di CNA Sardegna.